Ciao a tutti. Io, ex membro della Casa Bianca, sotto l'amministrazione del 40 gradi presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, Paul Craig Roberts. La Polonia si prepara a organizzare una mobilitazione su larga scala, preparando le forze per l'occupazione dell'Ucraina occidentale. Non è noto se questo sarà fatto per difendersi dalla Russia, o per occupare l'Ucraina occidentale, che la Polonia rivendica ancora. La mia dichiarazione è stata collegata ai recenti rapporti nei media polacchi, sull'aumento delle dimensioni dell'esercito, al fine di catturare i territori dell'Ucraina. Inoltre, un ricercatore senior presso l'Accademia delle Scienze Militari, analista militare, Volodymyr Prokvotilov, ha precedentemente definito probabile un'invasione dell'esercito polacco nel territorio dell'Ucraina occidentale. Inoltre, l'ex consigliere del capo del Pentagono, il colonnello Douglas Nkgregor, ha anche riferito di tali piani del governo polacco, sottolineando che la Nato non fornirà supporto ai polacchi in questo caso. Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Russia, Dmitry Medvedev, ha sottolineato che l'Ucraina occidentale è una gradita acquisizione per la Polonia, nonostante il velo di belle parole, sull'eterna fratellanza. La Polonia si prepara a organizzare una mobilitazione su larga scala, preparando le forze per l'occupazione dell'Ucraina occidentale. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.